Ciao a tutti e benvenuti a questo secondo video tutorial sulla programmazione iOS su Xcode. In questa seconda lezione vedremo come realizzare una semplice rubrica attraverso l'utilizzo dei navigation controller e delle table view. Cominciamo quindi con la creazione di un nuovo progetto per Xcode. Iniziamo sempre con una single view application che questa volta chiameremo tutorial02. Il prefisso sarà T02, l'applicazione sarà sempre per iPhone e continueremo ad usare gli storyboard visti nel tutorial precedente e l'automatic reference counting. Chiamo quindi su next e su create. Ci spostiamo immediatamente sullo storyboard passando alla visuale iPhone non retina da 3.5 in modo da avere una visuale migliore delle varie scene che andremo a realizzare. In particolare vediamo che come al solito iniziamo con un view controller come nella volta precedente ma questa volta non vogliamo avere a che fare con un view controller ma con un navigation controller iniziale. Per cui ci basta cliccare su, selezionando il controller, ci basta cliccare su editor, embed in e selezionare il navigation controller. In questo modo apparirà automaticamente un navigation controller collegato al view controller e quindi in automatico apparirà la barra di navigazione in alto sul view controller. Questo è un sistema per creare appunto un navigation controller, cioè un controller con controlli appunto di navigazione, ovvero con delle scene che possono andare automaticamente all'indietro nello stack di navigazione. Vedremo meglio questa cosa. Innanzitutto cerchiamo di capire che questo non è l'unico modo per creare un navigation controller. Se infatti noi eliminiamo sia il view controller che il navigation controller e introduciamo direttamente nello storyboard fin dal principio un navigation controller, vediamo che anche questa cosa genera lo stesso controllo di prima con una differenza e cioè che il controller che viene dato di default dal navigation controller è un table view controller che adesso analizzeremo nel dettaglio. Innanzitutto vediamo che se avviamo adesso l'applicazione apparirà inizialmente appunto una table view che può essere vista come una lista di elementi inizialmente vuota. Dovremmo cercare di capire come riempirla. Il titolo della view è root view controller. Anche questo adesso sarà possibile cambiarlo. Innanzitutto ci serve creare una classe che definirà il contatto che apparirà all'interno della nostra table view. Se vogliamo gestire una rubrica avremo bisogno di una lista di contatti e pertanto ci serve definire il tipo contatto che utilizzeremo di base. Per definire un nuovo tipo di elemento bisogna generare una classe Objective-C. Quindi clicchiamo su New File, anche questa volta da Cocoa Touch scegliamo Objective-C Class, ma non estenderemo UI View Controller o UI View, ma NS Object, la classe di base. Il nome della classe che andremo a realizzare sarà T02 Contatto. Clicchiamo quindi su Next e su Create. In questo modo verrà creato un nuovo file .h e un nuovo file .m, che questa volta la classe T02 Contatto estende la classe base NSObject, quella del Framework Foundation, da cui estendono tutte le classi. Anche la classe UI View Controller viene estesa da NSObject. Questo significa che, ad esempio, T02 View Controller, che estende UI View Controller, a sua volta estenderà anche NSObject. Vediamo innanzitutto come è formato un file .h nel dettaglio. Abbiamo innanzitutto l'import delle varie librerie, in particolare in questo caso solo la libreria Foundation.h. Viene poi definito il nome della classe con la sintassi AddInterface, che è una delle direttive principali, nome della classe, in questo caso T02 Contatto, due punti, classe che viene estesa. Bisogna sempre estendere una classe, anche se questa classe è NSObject. Dopodiché troviamo l'end che conclude il file. Tra interface ed end vanno inseriti tutte le proprietà di una determinata classe, di un determinato oggetto, e quindi in particolare le caratteristiche dell'oggetto, e i metodi, cioè le funzioni che questo oggetto può svolgere. In particolare noi avremo tre proprietà che vengono definite tramite la direttiva Property e saranno tre proprietà di tipo Stringa, che è nel Framework Foundation e NSString. Queste tre proprietà si chiameranno nome, il nome del contatto, cognome e numero di telefono. Possiamo separare con una virgola i nomi delle tre stringhe. In questo modo quindi definiamo tre Property, nome, cognome e numero. Questo significa definire che l'elemento NSContatto avrà questi tre valori e che sarà possibile accedere a questi tre valori tramite due metodi. Il metodo nome, il metodo cognome e il metodo numero per accedere al valore di questi valori e il metodo setNome, setCognome e setNumero per modificarli. Lo vedremo meglio in seguito. Inoltre tramite l'attributo Property, la direttiva Property, è possibile accedere a questi elementi tramite la sintassi con il punto che abbiamo già visto nel tutorial precedente. Anche questo lo vedremo meglio più avanti. Che cosa dovrebbe caratterizzare anche un contatto? Un metodo costruttore, cioè un metodo che ci consenta di creare da zero un contatto dandogli un nome, un cognome e un numero. Quindi andiamo a creare questo metodo. Il metodo restituisce appunto un oggetto T02 contatto. In particolare un puntatore a questo oggetto. Anche questo elemento è piuttosto avanzato e lo vedremo in seguito. Restituendo un elemento T02, il metodo in questione si chiamerà initWith, con, nome, e viene passato il nome, che è di tipo NSString, un puntatore NSString, nome, cognome, anche questo di tipo NSString, numero, anche questo di tipo NSString. Che cosa significa quello che abbiamo scritto? No, qui manca il... Che cosa significa questo metodo che abbiamo scritto? Tra il primo simbolo che troviamo è un trattino. Ovvero un simbolo meno. Questo simbolo meno sta ad indicare che il metodo è un metodo di stanza che può essere chiamato su oggetti di tipo T02 contatto. Vedremo poi che esistono anche dei metodi statici o di classe. Li vedremo in seguito. Tra parentesi inseriamo poi il tipo di ritorno, cioè il valore che verrà restituito da questo metodo sarà di tipo T02 contatto e in particolare sarà un puntatore, per l'annotazione asterisco, a un tipo T02 contatto. Il nome del metodo è initWith nome, cognome, numero. Riceve nell'ordine tre parametri di tipo NSString. Il primo è un param... il primo parametro si chiamerà nome, il secondo parametro cognome e il terzo parametro numero. Potevamo anche chiamare questi parametri argomento 1, argomento 2 e argomento 3. Non sarebbe cambiato nulla. Il nome del metodo sarebbe comunque rimasto initWith nome, cognome, numero. E dopo ognuno di questi valori, dopo i due punti avremmo dovuto specificare l'NSString da passare come parametro. Vediamo adesso come realizzare l'implementazione di questa interface. Vediamo quindi come è fatto nel dettaglio un file .m. Abbiamo sempre una prima riga che è l'import del .h del file, quello che abbiamo appena realizzato. Quindi già in questa classe questo import ci garantisce di sapere che abbiamo definito le property, nome, cognome e numero, e il metodo initWith nome, cognome e numero. Come vedete siamo avvisati tramite un warning che l'implementazione non è completa, perché infatti è necessario, obbligatorio, implementare questo metodo initWith nome, cognome e numero perché l'abbiamo specificato qui. Qui noi abbiamo soltanto dichiarato il metodo, infatti al termine del nome troviamo un punto e virgola. Nel file .m invece dobbiamo specificare il corpo del metodo, cioè che cosa succede all'interno del metodo. Specifichiamo questa cosa dentro la direttiva implementation, tra implementation ed end. Come vedete nel punto m dopo implementation il nome della classe che estendiamo non viene scritto. Andiamo quindi a completare questo metodo, a implementare questo metodo initWith nome, cognome e numero che ci viene già suggerito da Xcode. Tra parentesi graffe scriviamo il contenuto del metodo, o il corpo del metodo. Ciò che questo metodo fa. Non è altro che una serie di istruzioni, che saranno poi alla fine delle chiamate ad altri metodi già definiti. La prima cosa che bisogna fare, anzi la prima cosa che bisogna capire, è che questo metodo deve restituire un oggetto t02contatto. L'oggetto in questione sarà self, ovvero la classe contatto stessa. Può sembrare complesso ma non lo è. Vediamo subito che la prima cosa da fare è inizializzare self. Quello che facciamo è quindi self uguale a super, cioè la super classe nsobject init. Questo metodo init, senza specificare ad esempio come in questo caso with nome, cognome e numero, sta semplicemente ad occupare lo spazio in memoria relativo a questo oggetto di tipo nsobject. nsobject perché nsobject è la super classe di self. A questo punto self ha un valore. Questo significa che se noi inseriamo ora self all'interno di un if, con questa notazione, sta ad indicare che noi entriamo dentro il corpo di quest'if solo se questa prima inizializzazione è andata a buon fine. Potrebbe capitare, a volte succede, che questa inizializzazione abbia dei problemi, soprattutto se la classe che stiamo estendendo non è nsobject. Quindi questo controllo ci serve per verificare che adesso, dentro l'if, noi possiamo accedere a self. In particolare, quello che possiamo fare è accedere a self.nome, a self.cognome o a self.numero, per il semplice fatto che le abbiamo dichiarate come property. self.nome sarà uguale a nome, dove questa volta, questo secondo nome, che non viene colorato di nessun colore, rappresenta il nome del parametro che riceviamo come ingresso a questo metodo, il primo parametro. Self.cognome sarà uguale al cognome ricevuto come parametro e self.numero sarà uguale al numero ricevuto come parametro. Inizializzato, finalmente, il self, ovvero questo oggetto contatto, possiamo restituirlo con l'istruzione return self. Ciò significa che se la prima istruzione non va a buon fine e self non viene inizializzato, il valore restituito da qui sarà null o nil. Anche questo lo vedremo meglio in seguito. Fatto sta che puoi prendere questo codice come uno standard per i metodi di inizializzazione. Self uguale superinit, if self esegui l'inizializzazione e alla fine return self. Nell'inizializzazione, quello che bisogna fare è utilizzare i parametri ricevuti in ingresso per settare i vari valori delle property. Questo almeno nella maggior parte dei casi. Adesso, finalmente, l'oggetto contatto è pronto per essere utilizzato nella nostra applicazione. Vediamo come fare. Torniamo per un momento allo storyboard. Adesso che abbiamo l'oggetto contatto, possiamo cercare di capire come questo si deve interfacciare con questa grafica che abbiamo qui. Innanzitutto, selezioniamo il table view controller. Vediamo che abbiamo una barra di navigazione in alto all'interno della quale possiamo specificare un titolo. Nel nostro caso sarà rubrica. Il prompt serve come testo di spiegazione. Non viene usato quasi mai. Se scriviamo qualcosa qua sopra, come ad esempio la mia rubrica, lo vedremo apparire sopra la barra di navigazione. Nel nostro caso non ci serve. Back button è un'altra proprietà che potremmo vedere in seguito a cosa serve. Per il momento ci basta sapere che questa table view che ha come titolo rubrica all'interno, come vedi, è rappresentata una prototype cell, cioè una cella vuota. Ma noi abbiamo visto che eseguendo l'applicazione troviamo una lista di celle che possiamo tra l'altro scorrere in alto o in basso. Questo perché la cella viene replicata infinite volte. Noi, quello che dobbiamo fare è trovare un modo di rappresentare all'interno di questa cella i valori del nostro contatto. In particolare all'inizio vedremo come inserire nome e cognome. Cominciamo quindi a vedere che cosa è possibile modificare di questa prototype cell. In particolare lo stile. A questo momento noi abbiamo uno stile custom ma esistono già degli stili predefiniti come ad esempio lo stile basic che ha un titolo sulla sinistra, right detail, left detail o subtitle. Noi utilizzeremo lo stile right detail Noi utilizzeremo lo stile subtitle che avrà il nome in alto e il cognome invece in basso. Questa prima label perché questi sono due label title e detail è la label title quella sotto è la detail label vedremo poi come sarà possibile modificare questi valori via codice. Nel frattempo vediamo che è anche possibile specificare un'immagine un reuse identifier che noi utilizzeremo. Questa cella che noi abbiamo definito come prototype cell si chiamerà cella contatto. In questo modo abbiamo definito questa particolare cella che ha lo stile subtitle e avrà tra le altre un accessory chiamato disclosure indicator cioè questo simbolo. che sta a simboleggiare che sono disponibili ulteriori informazioni in particolare vedremo che sarà possibile visualizzare il numero di telefono che qui non verrà rappresentato. Altri possibili valori sono check mark quindi con la possibilità di spuntare o meno la cella o detail disclosure che in questo caso a dire il vero è da preferirsi quindi lasciamo questo. In questo modo abbiamo definito il tipo di cella però ovviamente se ancora adesso eseguiamo l'applicazione ci troveremo con la scritta rubrica questo sì ma con un insieme di celle vuote questo perché il table view non sa dove deve prendere i valori per le celle che vengono visualizzate qui per fare tutto questo abbiamo bisogno di un table view controller da associare a questo table view in particolare il table view controller al momento non è associato a nulla è una generica classe di tipo ui table view controller che non ha controlli specifici per quello che vogliamo fare noi ovvero rappresentare dei contatti non possiamo come nel tutorial precedente assegnare a questa classe t0.2 view controller perché è di tipo ui view controller quello che a noi serve è un tipo ui table view controller quindi andiamo a generare questo file new file objective c class andremo ad estendere ui table view controller qui è la quarta classe e si chiamerà t0.2 rubrica view controller next create in questo modo abbiamo una serie di metodi che vanno implementati ti rendi conto che sono molti di più ovviamente di quelli che apparivano per il semplice t0.2 view controller punto m avevamo solo viewed load e did receive memory warning anche in questo caso abbiamo viewed load e did receive memory warning ma troviamo anche una serie di metodi associati appunto al table view data source e al table view delegate sono segnati da questo pragma mark che serve semplicemente perché se in qualunque momento noi volessimo selezionare all'interno di rubrica vi controllo il punto m volessimo scegliere di posizionarci subito all'inizio di qualche metodo potremmo farlo in questo modo e avremo questi pragma mark che segnano una determinata sezione come vei che abbiamo tre metodi dedicati al data source è un metodo dedicato al delegate che cosa significa data source e che cosa significa delegate il data source è la risorsa che deve essere utilizzata per riempire le celle del table view il table view delegate invece è una serie di metodi che ti consentono di agire quando avviene un determinato evento sulla data table vedremo tutti questi quattro metodi in particolare nel dettaglio cominciamo dal primo number of section in table view questo viene selezionato quando rilasciamo il mouse su questi metodi se ad esempio avessimo scelto di select droid index fat ci saremmo spostati qui in basso cominciamo quindi con il primo number of section in table view che riceve appunto la table view veniamo avvisati con un warning che questo metodo deve essere necessariamente implementato rimuoviamo quindi questo warning e vediamo che cosa deve restituire questo metodo il nome stesso ce lo dice il numero di sezioni nella table view una table view può avere anche più di una sezione lo vedremo meglio più avanti per il momento questo primo table view che dovrà visualizzare solo la lista dei contatti avrà un'unica lista quindi la sezione sarà 1 dopodiché dobbiamo andare a dire il numero di righe da visualizzare number of rows in section ora prima di procedere a questo metodo bisogna dire che noi inizialmente non sappiamo quante righe dovrò visualizzare perché non sappiamo quanti contatti avremo nel nostro nel nostro metodo quello che possiamo fare è andare nel metodo viewed load che è il primo metodo che viene chiamato e modificarlo in modo tale che al suo interno venga inizializzato un array un vettore di contatti una lista sostanzialmente di contatti che poi verrà utilizzata per riempire le celle andiamo con ordine la prima cosa da fare è definire questa lista di contatti come lo facciamo siamo su t02 rubrica view controller questa è l'implementazione cosa che non trovavamo in t02 contatto punto m è che prima di implementation qui ci ritroviamo un altro interface ce ne occuperemo in seguito per il momento lo possiamo tranquillamente eliminare finora all'interno di contatto punto h noi abbiamo definito le property in questo modo è anche possibile però definire delle variabili all'interno di un file punto m senza specificarle nel file punto h e quindi senza renderle pubbliche agli altri anche questo concetto ti si rivelerà più chiaro in seguito però per il momento ti basta sapere che puoi specificare un altro tipo di variabile come variabile interna a questo punto m dopo l'implementation tra le parentesi graffe sarà una variabile di tipo ns mutable array e si chiamerà contatti ns mutable array rappresenta appunto una lista una lista in particolare mutabile da differire da ns array che è un array di elementi una lista di elementi immutabili vengono inizializzati una volta e non possono essere più modificati noi invece vogliamo che sia possibile aggiungere i contatti una alla volta e rimuoverli quindi abbiamo bisogno di un ns mutable array adesso possiamo accedere a questa lista di contatti in tutti i metodi della nostra classe per prima cosa però dobbiamo inizializzarla specificando alcuni contatti iniziali che verranno visualizzati all'inizio dopo il superview di dload troviamo già alcune righe di codice che però sono commentate analizzeremo in seguito queste righe di codice per il momento andiamo ad inizializzare l'array contatti l'array contatti viene inizializzato in questo modo inizialmente il suo valore è nil perché non essendo ancora inizializzato non ha nessun valore sa che ddpnse mutable array ma non sa che cosa contiene al suo interno per inizializzare un elemento di questo tipo bisogna chiamare un metodo di tipo init come quello che abbiamo chiamato in contatto su super abbiamo chiamato super init anche in questo caso andremo a fare una sorta di init di un oggetto ns mutable array ns mutable array unlock qui abbiamo una differenza prima di chiamare il metodo init essendo questo un metodo distanza va chiamato su un oggetto già esistente pertanto dobbiamo per prima cosa creare l'oggetto con il metodo unlock e dopodiché inizializzarlo in questo modo viene inizializzato vuoto con il metodo init classico però bisogna dire che è anche possibile inizializzarlo passando dei parametri come ad esempio il nostro metodo init with nome cognome numero per i contatti che adesso vedremo innanzitutto però bisogna dire che nel caso dell'ns mutable array così come per molti altri casi del framework foundation è possibile inizializzarle evitando evitando di chiamare prima unlock e poi init ma con un unico metodo di classe chiamato nsmutebol array array questo metodo automaticamente chiama unlock ed init restituendoci quindi un array vuoto adesso che l'array contatti è inizializzato non dobbiamo fare altro che creare alcuni oggetti di tipo contatto e inserirli nell'array iniziale possiamo farlo in moltissimi modi il primo modo che vediamo è quello di creare i tre oggetti contatto separatamente per utilizzare un oggetto di tipo contatto dobbiamo importarlo come vedi in questa classe però importiamo solo t02 rubrica biocontroller punto h andiamo quindi ad importare anche t02 contatto punto h in questo modo adesso possiamo accedere alla classe t02 contatto e creare un oggetto di tipo t02 contatto chiamato appunto contatto 1 e sarà uguale a che cosa a t02 contatto alloc come abbiamo visto prima e init questa volta però non utilizziamo l'init classico ma quello che noi stessi abbiamo scritto in precedenza int with nome cognome numero che riceve tre stringhe quindi già con l'auto completamento vediamo che dobbiamo scrivere la prima stringa sotto nome la seconda come cognome e la terza come numero quindi il nostro primo contatto avrà come nome francesco come cognome frasca e come numero un numero a caso dopo di che chiudiamo la parentesi quadra e diamo il punto e virgola in questo modo abbiamo inizializzato un oggetto contatto 1 che avrà come property nome francesco come property cognome frasca e come numero questo 3412 e via dicendo allo stesso modo creiamo un secondo oggetto contatto chiamato contatto 2 quindi t02 contatto star contatto 2 uguale a t02 contatto alloc init with nome cognome numero questa volta passiamo ad esempio giovanni filice e un altro numero a caso abbiamo creato quindi due oggetti di tipo contatti in questo modo quello che dobbiamo fare adesso è aggiungere questi due oggetti al nostro array di contatti che per il momento è vuoto ci sono vari modi in cui possiamo fare questo possiamo aggiungere i contatti 1 1 all'array oppure reinizializzare l'array aggiungendo direttamente i due oggetti all'inizio questo significa che il nostro contatto uguale ns mutable array diventa inutile perché se andiamo adesso a inizializzare l'array spostando questa inizializzazione sotto quella dei due contatti possiamo inizializzarlo chiamando il metodo array with objects che riceve la lista degli oggetti con cui l'array deve essere inizializzato in particolare noi passiamo contatto 1 virgola contatto 2 e terminiamo con un virgola nil in questo modo noi abbiamo aggiunto i due oggetti all'array contatti che viene inizializzato con questi due oggetti già al suo interno l'altro metodo invece è più consono torniamo indietro una volta che l'array è già in questo modo formato quello che possiamo fare è aggiungere gli oggetti all'array quindi fare contatti e chiamare su questo il messaggio add object contatto 1 contatti add object contatto 2 in questo modo aggiungiamo i due contatti uno a uno nell'array che li conterrà tutti i due metodi sono gli stessi il secondo si presta più add riempimenti più dinamici se sappiamo fin dall'inizio che dobbiamo inserire solo questi due elementi allora avremo potuto utilizzare anche il primo metodo però in questo modo abbiamo la possibilità dopo di aggiungere anche altri oggetti in maniera più dinamica anche nel primo caso avremmo potuto farlo però i primi due sarebbero rimasti comunque quelli vedremo che più tardi ci tornerà utile questa distinzione ora che sappiamo che esiste un array con dentro dei contatti ed è inizializzato possiamo tornare ai metodi della table view data source abbiamo detto che sarà presente una sola sezione cioè una sola lista all'interno della table view e che questa lista quante righe dovrà avere number of rows in section e riceve la sezione ovviamente noi dal momento che abbiamo un'unica sezione sappiamo che questo metodo si riferirà solo a quella e dobbiamo specificare quanti saranno gli elementi che dovranno essere visualizzati in questa sezione saranno esattamente il numero di contatti a nostra disposizione che per il momento sono due quindi qui potremmo dare ad esempio return 2 se però in seguito dovessimo aggiungere nuovi contatti o rimuoverli come facciamo a sapere quanti ne dobbiamo visualizzare allora qui andiamo a restituire direttamente contatti count questo metodo restituisce il numero di elementi che sono presenti dentro l'array quindi in questo caso restituirà 2 se però avessimo deciso di aggiungere un nuovo contatto qui all'inizio qui ne sarebbero stati restituiti 3 a questo punto possiamo passare al metodo un po' più complesso il metodo table view self or row and index path che riceve l'index path questo metodo serve a far capire al table view che cosa deve essere visualizzato in una determinata cella ovvero nella cella che ha come indice quello mostrato in questo parametro index path vediamo bene come funziona questo metodo viene chiamato viene dichiarato una variabile di tipo ns string chiamata cell identifier che è statica capiremo meglio questa cosa dopo serve solo ad indicare che se viene inizializzata questa prima volta non dovrà essere visualizzata più non dovrà essere inizializzata più dobbiamo chiamare questo cell identifier così come avevamo chiamato il cell identifier dello storyboard se ricordate questo cell identifier era cella contatto torniamo quindi al view controller punto m e specifichiamo cella contatto a questo punto a questo punto viene chiamato il metodo with table view cell cioè viene creata la cella with table view cell tramite il metodo sul table view de qui reusable cell with identifier cell identifier for index path index path adesso capiremo meglio come funziona questo metodo ci basta sapere che a questo punto noi abbiamo la cella pronta per essere restituita prima di restituirla dobbiamo modificare i suoi valori ovvero su cell possiamo accedere a delle property così come facciamo con il contatto abbiamo parlato prima del fatto che ha a disposizione due label una label title e una label detail quindi quello che possiamo fare è andare a modificare la prima label title che viene chiamata text label e modificare il testo di quest'ultima che sarà uguale a che cosa al nome del contatto che dovrà essere visualizzato in quella specifica cella ma come facciamo a sapere quale dei due contatti è semplicemente quello che dobbiamo fare è capire quale è stato qual è la riga che deve essere visualizzata e andare a prendere l'elemento in quell'indice all'interno del nostro array quindi innanzitutto vediamo di accedere al nostro contatto sarà di tipo t02 contatto si chiamerà contatto in questo caso e sarà uguale a contatti object at index index path punto row l'oggetto index path contiene al suo interno due property la property row che rappresenta la riga l'indice della riga e la property section che rappresenta la sezione nel nostro caso noi abbiamo una sola sezione quindi non ci serve controllare questa cosa e ci basta prendere l'indice di riga il metodo object at index chiamato sul contatti restituisce l'elemento nella posizione passata come parametro in questo caso nella posizione index path punto row adesso che abbiamo a disposizione il contatto che devo occupare quella posizione possiamo dire che cell.textlabel.text sarà uguale a contatto punto nome e che cell.detail.label detail.textlabel che è la label di dettaglio punto text sarà uguale invece a contatto punto cognome a questo punto la cella è stata riempita con i valori corretti da rappresentare possiamo fare return cell prima di analizzare meglio questi tre metodi che abbiamo appena realizzato proviamo ad eseguire l'operazione l'applicazione per vedere che cosa succede ancora è vuota perché non abbiamo effettuato il collegamento tra questo table view controller e quello che abbiamo appena realizzato lo facciamo quindi specificando qui t02 rubrica view controller ops qui però abbiamo selezionato la cella dobbiamo selezionare invece proprio il table view controller e specificare qua quindi t02 rubrica view controller ecco fatto adesso se eseguiamo vedremo comparire francesco frasca e giovanni filici due contatti che noi avevamo aggiunto in quel array come è successo il table view controller se andiamo a vedere nel punto h vediamo che estende la classe ui table view controller che di per sé implementa due protocolli che è una cosa che capiremo meglio in seguito questi due protocolli sono table view data source e table view delegate una classe di questo tipo che cosa fa quando viene avviata per prima cosa chiama il metodo su se stessa number of section in table view per capire quante sezioni deve visualizzare noi gli diciamo che ne deve essere visualizzata solo una dopo di che si domanda ok in questa sezione quante celle devo visualizzare e chiama questo secondo metodo number of rows in section e noi gli diciamo che ne deve visualizzare due ovvero il numero di elementi presenti nel nostro array a questo punto si domanda per ogni posizione cioè in posizione uno che cosa devo rappresentare allora io ti dico voglio una cella che sia di tipo cella contatto cioè che abbia questo aspetto qui perché questa cella ha come identifier cella contatto quindi nel momento in cui io chiamo il metodo the query usable cell with identifier for index path sto dicendo dammi per favore una cella che abbia quell'aspetto l'aspetto che ha come cell identifier cella contatto se questa è disponibile ci viene restituita a questo punto dal momento che abbiamo a disposizione la cella che sta per essere visualizzata e che verrà visualizzata solo nel momento in cui ne offeremo return cell possiamo modificare i valori all'interno di questa cella che altrimenti sarebbero title e detail inserendo il nostro nome e il nostro cognome quelli del contatto che era presente nella riga che vogliamo selezionare quindi questo metodo viene chiamato una volta quante sezioni una quest'altro metodo viene chiamato un'altra volta quanti righe in questa sezione due questo metodo viene poi chiamato due volte qual è la cella che deve essere inserita nella riga uno quella che ha come text label il nome del contatto alla riga uno e quella che ha come detail label il cognome del contatto alla riga uno viene chiamato poi una seconda volta per quanto riguarda la riga due e gli vengono passati il nome e il cognome del contatto che si trovano invece alla riga due infine return cell restituisce questa riga e possiamo visualizzare in questo modo i due contatti quando selezioniamo però il contatto per il momento non succede nulla vedremo nella seconda parte di questo tutorial di questa lezione un po' più complessa come fare una volta selezionato il contatto a visualizzare i suoi dettagli in un secondo view controller